Sei anche giocatore o solo preparatore? Con Scafetti Roberto dell'Albano un pareggio veramente importante, avete riscosso anche i complimenti del mister, te li riporto, del mister ovviamente dell'altra squadra, mi commenti questa partita? Una partita difficile, molto difficile, i ragazzi l'hanno preparata bene durante la settimana, ci siamo allenati bene, abbiamo puntato a fare il risultato migliore che potevamo, abbiamo rischiato di vincere la partita perché due gol sopra, insomma il risultato sta mettendo bene, poi sul due pari diciamo che il pareggio per noi va bene visto che stiamo lottando, insomma nelle zone basse lassifica, mentre Ciampino è una squadra veramente molto forte, con giocatori fortissimi e per noi insomma un punto guadagnato. Infatti a giudicare dalla classifica potevamo pensare che fosse una partita molto difficile per l'Albano però il mister ad esempio dell'Ardenza Ciampino ci ha detto che voi avete dei valori che non sono rispecchiati in realtà dalla classifica, proiettiamoci alla prossima settimana il match contro l'Olympus, un'altra delle grandi, come l'affrontate? Una partita difficile, cercheremo di recuperare qualche ragazzo uscito un po' acciaccato da questa partita e la prepareremo nel migliore dei modi, ma facciamo tutte le settimane, cercheremo anche in questo caso di fare il risultato, cerchiamo di sfruttare il fattore campo che per noi è molto importante, quindi speriamo che vada bene anche la prossima settimana. Vista la situazione dell'Albano pensi che anche la lotta contro le squadre più in alta in classifica sia quindi possibile a giudicare da oggi? Diremmo di sì. Noi ce la giochiamo con tutti, ovviamente poi noi la salvezza ce la dobbiamo giocare con altre squadre, però cerchiamo ogni partita di dare il massimo di trarre il risultato migliore possibile. Ti ringrazio, ciao.